Nell'epoca in cui il corpo umano e la sua cura sono divenuti un vero e proprio mito di massa, la società getta su ciò che è imperfetto un'ombra di diffidenza e discriminazione. È la denuncia di Papa Bergoglio, espressa nell'omelia della messa celebrata in Piazza San Pietro per il giubileo degli ammalati e delle persone disabili, di un mondo ormai disorientato, privo di equilibrio, in cui il modello dominante reagisce con le armi del disprezzo a chi, con la propria diversità, lo mette in crisi. Tutti prima o poi siamo chiamati a confrontarci, talvolta a scontrarci, con le fragilità e le malattie nostre e altrui, ha detto Francesco, ma riporre tutta la fiducia nelle scoperte della scienza, pensando che certamente in qualche parte del mondo esiste una medicina in grado di guarire la malattia non è la via che conduce a Cristo. Avere coscienza del limite che la natura umana porta iscritto in sé è invece il primo passo da compiere per Papa Bergoglio lungo un sentiero illuminato dall'amore misericordioso del Padre. È sempre una questione di amore, non c'è un'altra strada. La vera sfida è quella di chi ama di più. Quante persone disabili e sofferenti si riaprono alla vita appena scoprono di essere amate. E quanto amore può sgorgare da un cuore anche solo per un sorrisso. La terapia del sorrisso. Allora la fragilità stessa può diventare conforto e sostegno alla nostra solitudine. Il Signore è il medico che guarisce con la medicina dell'amore perché prende su di sé la sofferenza umana e la redime. Tutti noi, ha ribadito il pontefice, sappiamo che Dio sa comprendere le nostre infermità perché Lui stesso le ha provate in prima persona. Il modo in cui viviamo la malattia e la disabilità è indice dell'amore che siamo disposti a offrire. Il modo in cui affrontiamo la sofferenza e il limite è criterio della nostra libertà di dare senso alle esperienze della vita anche quando ci appaiono assurde e non meritate. Guardare negli occhi chi soffre per scorgervi il volto di Dio, per comprendere che tutti siamo diversi perché parte di un solo corpo sono state le parole con cui Papa Francesco ha ricevuto il giorno prima in aula Paolo VI i partecipanti al convegno per persone disabili promosso dalla CEI. Le diversità sfidano il senso comune delle cose ed è proprio in questo confronto che si misura lo spirito di accoglienza di ogni parrocchia in cui a volte ha ammesso con amarezza il pontefice rispondendo alla domanda di Serena la disabilità è sinonimo di esclusione. La diversità non dici che questo che ha i cinque sensi che funzionano bene è migliore di quello che per esempio è sordo muto. No, quello non è vero. Tutti abbiamo la stessa possibilità di crescere, di andare avanti, di amare il Signore, di fare cose buone, di capire la dottrina cristiana e tutti abbiamo la la stessa possibilità di ricevere i sacramenti. Capito? Accogliere tutti dunque perché tutti sono accolti dal Signore. Discriminazione e indifferenza non possono trovare spazio nelle nostre parrocchie. Quello che deve fare il prete aiutato dai laici, dai catechisti, da tanta tanta gente è aiutare a tutti a capire, a capire la fede, a capire l'amore, a capire come essere amici, a capire le differenze, a capire come si complementano le cose, come uno può dare una cosa e l'altro ci dà l'altra. Questo è aiutare a capire.